Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia Ricordiamo che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali a bordo Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze per i lavori della tramvia, in piazza Dalmazia, restringimenti all'intersezione con via Mariti Poverty Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie